Ciao a tutti, io sono Roberto Enza in Arte e Male, sono di Arenzano in provincia di Genova. Questa sera partecipo al premio nazionale della canzone d'autore emergente con il mio ultimo singolo, Finché il sole sale. Insieme a me saliranno sul palco Pietro Siri, Alcaon, e Michele Genta, la chitarra acustica. Il brano che presentiamo è un brano che parla di una relazione, una relazione amorosa, sentimentale, in cui bisogna affrontare un sacco di difficoltà e ostacoli, ma poi alla fine si trova sempre il modo per apprezzarla e per renderla degna di essere vissuta. Ci tengo a dire che il brano è stato prodotto in studio anche con loro due, quindi portiamo il nostro brano sul palco. Grazie a tutti. Grazie a tutti.